Ho visto, ho visto, non direi pesanti, non direi pesanti. La politica ha sempre difeso i potenti perché di per sé diceva non mi piace mai fare recitazioni ma una recitazione la faccio. Guccini, Francesco Guccini, il cantautore, diceva il potere offende, offende sempre in una sua canzone. Non sta mai dalla parte del più debole, il potere sta sempre dalla parte dei più forti perché deve alimentare il potere, il forte alimenta il potere, il povero non può alimentarlo. Quasi sempre poi succede e finiscono, come qui nel mio film, ai domiciliari o agli arresti, incredibilmente quest'Italia ultimamente ci sono più inquisite, più arrestate in politica che nella mafia. Questo è un dato che ti fa chiaramente capire dove siamo andati a finire. Ci sono circa 350 arrestati e quasi 200 inquisiti politici, stiamo parlando, quindi quasi 300-400 procure d'Italia che di punto in fianco si sono impazziti, diciamo si sono trasferiti i famosi manichiomi, chiusi, si sono trasferiti nelle procure. A me non mi sembrano, però la politica risponde sempre, ci rimettiamo nelle mani della magistratura, proveremo la nostra innocenza. Purtroppo non riescono mai a provarla per due motivi, o perché finiscono in galera e finiscono nel dimenticatoio, oppure perché i processi sono lunghi in Italia, appositamente come abbiamo visto sempre nel film, dice guarda non la mando mai a sentenza e quindi praticamente nel frattempo il fatto è convito, qui nel frattempo la fanno franca. Questo è l'Italia, anche perché spesso alla politica si consegnano anche forze di polizia, forze di carabinieri, forze della magistratura, non tutti per fortuna c'è una grande Italia sana, appunto nella polizia, nei carabinieri, nella magistratura, ma c'è un'Italia sana che veramente non ce la fa più e allo stremo, ma culturalmente allo stremo, perché io non vedo una grande fame, nel senso che manca il piatto di pasta, questo per fortuna ancora no, ma è allo stremo culturale, cioè non se ne può più, cioè la gente chiede legalità, vorrebbe vivere una sanità senza andare dal politico e chiedere di poter accelerare un'attacca, vuole andare a fare un concorso e non vuole rivolgersi più, un giovane non vuole rivolgersi più alla politica, vuole andare su un'autostrada completata e non inaugurata, insomma, è veramente un'Italia ridicola e allo stremo. Quando io dico che viviamo in una sorta di buco nero dell'incertezza, ed è questa incertezza come se tutti quanti aspettassimo un messia, io dico che non c'è mai stato un messia specialmente politico, ed è bene non aspettarlo perché non arriverà mai, gli unici messia siamo noi, cioè l'unico modo per far spalare la neve della propria casa è quella del vicino, metterci insieme e cominciare veramente per ripartire, per camminare, insomma, ecco, questo è là. E poi c'è l'altra parte che mi addolora, ci sono alcuni che mi dicono che ho avuto coraggio, ma qui c'è poco da avere coraggio, qui c'è davvero da chiedersi, ma da quale parte vogliamo stare, come dicevo prima, ma stiamo da parte del Fili Scaglione, oppure dei bellissimi articoli di giornale, di Fittipaldi, di altri, di Ester Palma, insomma, voglio dire, su coloro che hanno dedicato molti articoli e molte pagine anche di libri sulla legalità, oppure vogliamo stare dalla parte di Carminati e Buzzi, perché ci siamo vicini, c'è una parte politica che sta molto, ma molto vicina a Buzzi, ancora oggi, cioè si deve tacere, non si deve parlare, non si deve dire niente, facciamo finta che non sia successo, vediamo se passa la nottata e andiamo avanti. E questo continueremo ad accumulare male a questo paese disastrato. Una notazione mi ha fatta, tanti bastoni fra le ruote, addirittura ha scelto Cosenza per fare parte del film, perché molte volte l'è stata negata anche all'autorizzazione a scene, a scenari, quanto deve lottare un regista contro, perché alla fine il potere, la politica, mette il bastone fra le ruote. Ma non è solo il regista, c'è una formula magica in alcune fazioni politiche, quando tu ti presenti e dici c'è un progetto, e vedi che la prima cosa che fanno è salterellano con le mani sulla scrivania, già capisci da quel gesto che a loro non interessano, perché loro hanno i loro progetti e non sono disposti ad ascoltare. Questo è successo a Roma, noi abbiamo solamente fatto una richiesta per cercare di ricreare, pensando a un nuovo corso, ci hanno fatto capire che non c'era aria. Poi noi a un certo punto abbiamo virato verso Cosenza, dove invece il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, ci ha accolto, ci ha accolto aprendoci le porte anche di palazzi del governo, insomma altri immobili, dove praticamente abbiamo potuto ricostruirvi. È molto difficile, perché poi già a Roma è difficile anche logisticamente, per traffico, per tante cose, però poi ancora una volta casualmente succede che noi andiamo a chiedere a questa attuale amministrazione il permesso di poter girare alcune scene che avete visto, che abbiamo girate proprio poi recentemente, insomma, e ci hanno dato il permesso, così come ci hanno dato il permesso di fare la conferenza stampa in Campidoro, che io vedo una cosa normalissima, ma io lo vorrei andare a proiettare al Quirinale questo film. Io adesso farò, anzi adesso mi ha fatto venire in mente, che voglio provare a fare una richiesta di patrocinio e di proiettare il film all'attuale Presidente della Repubblica, perché è un fatto legale, io credo di aver fatto un film sulla legalità. E questa è la sala piena della soddisfazione finale? Ma sì, la soddisfazione finale comunque continuerà, perché poi dal 4 esce in tutte le sale italiane, Roma è coperta con 10 sale, diciamo praticamente, è tutto ormai molto difficile, credetemi, quando uno fa un film non sa dove si va a parare. Considerate che gli esercizi, o meglio, le agenzie regionali hanno centinaia di film, e quindi i film non è che ne escono due, tre, quattro, non ne escono proprio. Cioè i film non li fanno uscire, quindi far uscire un film con 70, 80 copie, che poi significa capo zona, perché non contiamo, c'è una logica, non si contano le province, i piccoli capiluogo, insomma i paesi, e quindi non si contano come schermo. Oppure ad esempio Roma è contata, sono 10 schermi, è contata come una città, insomma, tutta una logica matematica, però è una cosa assolutamente straordinaria, perché è la nostra distribuzione, le nostre forze, che ha avuto la capacità di sedurre, uso questa parola, gli esercenti e i regionali che hanno accolto il film. Il film esce in tutta Italia dal 4 maggio, in sale prestigiosissime, tra l'altro. Vincili vicili, guardate qui a destra, guardate a destra, guardate qui a destra, dalla vostra destra. Grazie a tutti.